Iniziamo parlando di medicina, soprattutto parlando di epilessia, prognosi a lungo termine dell'epilessia, identificazione del profilo del paziente epilettico a rischio di morte improvvisa e le relazioni tra sonno ed epilessia nell'adulto e nel bambino. Questi alcuni dei temi più significativi del 35esimo congresso nazionale della Lega italiana contro l'epilessia, Alice, da sempre preciso indicatore dell'evoluzione medico-scientifico in ambito epilettologico, svoltosi dal 5 all'8 giugno a Torino, presso il centro congressi di Torino Incontra. Proprio in questa serie di eventi è stato proiettato il film Mi prendo cura di te, che tratta appunto i temi dell'epilessia, una pellicola particolare con un casting di veri medici che serve per far comprendere agli addetti ai lavori come e quanto sia complesso e importante il rapporto con i pazienti. Vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.